ciao ciao giovanni come stai tutto bene ciao pai tutto bene ma tu dove sei allora sì come vedi alle mie spalle ci sono dei costumi molto particolari e ci sono delle armi però queste armi sono non sono vere e praticamente sono presso una compagnia dell'opera di pechino sono su un palco beh a tutte è il mio sogno visitare l'opera di pechino esatto giovanni oggi ho avuto finalmente modo di vivere in persona il fascino dell'opera di pechino e quindi hai potuto muovere il corpo in modo così espressivo ma dimmi i movimenti sono liberi dentro quei costumi allora giovanni praticamente non proprio liberi questi movimenti perché devono risperare rispettare una certa formula però nel quadro di questa formula ogni attore può comunque sviluppare un proprio stile poi ho appena imparato con un maestro dell'opera di pechino e ho capito che c'è l'importanza di una sinergia tra lo squarto e i movimenti delle mani e dei piedi quindi è molto importante questa sinergia ovviamente un attore prima di recitare sul palco deve assolutamente fare migliaia e migliaia di volte di esercitazioni sotto palco quindi ovviamente oggi ho capito che l'opera di pechino non è assolutamente un mestiere facile come pensavamo e direi proprio di no anzi mi sembra un'arte è davvero complessa quasi una fusione di più arti esatto giovanni in questa opera di pechino vediamo un praticamente combinazione di diverse forme tradizionali cinesi quindi non solo soltanto l'opera ma anche come esempio possiamo vedere dai disegni le pelle arti la pittura poi dai movimenti possiamo intravedere qualche elemento di arti marziali quindi veramente l'opera di pechino rispecchia una combinazione di diverse forme tradizionali di la scena allora pai io te lo dico quando riuscirò a venire lì una delle prime cose che farò sarà visitare l'opera di pechino allora sono molto felice di sentirlo giovanni allora bene allora ti aspetto a pechino a magari un giorno vieni anche due a vivere di persona ti porto qui proprio in questa compagnia sul palco e gli impari magari una scena da recitare sul palco va bene giovanni ti aspetto eh ci vediamo alla prossima ciao a presto